Grave Leonatoce è il primo comune del Verbano Cusi-Ossola che alle amministrative di giugno 2024 beneficerà delle novità introdotte dal provvedimento licenziato oggi dal Consiglio dei Ministri. Per il sindaco uscente Gianni Morandi sarà possibile dunque ripresentarsi alla testa della compagine di governo per il terzo mandato amministrativo. Succede per effetto del provvedimento che permette ai sindaci dei centri con popolazione compresa tra i 5 e i 15 mila abitanti di arrivare appunto al terzo mandato. Novità in arrivo anche per i paesi con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti. Qui decade il limite massimo dei mandati per i primi cittadini. Morandi su un nuovo impegno nella veste di candidato sindaco non si sbilancia questa nuova norma. Dice però è certamente interessante opportunità per molti sindaci italiani che a differenza di altre importanti cariche pubbliche consigliere regionale e parlamentare avevano questo limite. Non sono sicuro che la soglia dei 15 mila abitanti sia corretta. Forse sarebbe stato giusto consentirlo anche ai comuni più grandi. Il pensiero di Morandi nel vice agli altri comuni che in futuro potranno beneficiare della novità decisa da Roma sono Villa Dossola, Stresa e Cannobbio. Villa Dossola e Stresa voteranno tra due anni. Cannobbio vota a giugno ma il sindaco è al primo mandato. Due novità decise dal governo hanno sollecitato anche l'UNCEM a prendere posizione. L'eliminazione si legge in un comunicato del limite dei mandati nei comuni con meno di 5 mila abitanti. Non deve impedire però il ricambio, la crescita di nuove forze capaci di lavorare nell'amministrazione, l'impegno di giovani, la formazione di nuove classi dirigenti locali. Ne abbiamo fortemente bisogno all'interno delle nostre amministrazioni comunali nei centri più piccoli. Libertà nelle candidature sia stimolo per crescere con nuove leve, anche da portare in posizioni apicali, formandole e dando loro fiducia.